buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv siamo arrivati ormai al fine della settimana e siamo prossimi alla prima sfilata dei carri allegorici del carnevale di fano una grande manifestazione che insomma valorizza tutta la regione Marche e nota anche in tutta Italia e anche all'estero quindi si inizia il carnevale vedremo già come la manifestazione sarà gremita di folla nella giornata di domani quando dovrebbe essere bel tempo e quindi ci dovrebbero essere tutte le migliori condizioni per effettuare l'iniziativa nel migliore dei modi ma intanto passiamo per l'almanaco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccola la santa e santa Angela Merici visse tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo fondò la congregazione delle orsoline è una santa mistica a cui si devono non pochi miracoli una vita molto santa improntata dalla preghiera all'aiuto per gli altri alla misericordia insomma una santa che fece molto siamo a metà degli anni del rinascimento e quindi è un momento molto molto fervido di idee ma anche di vocazioni e vediamo anche le previsioni del tempo ecco la grafica e vediamo che ancora i cieli si mantengono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino e al pomeriggio moderati il mare è poco mosso la temperatura massima sarà di 8 gradi liveamento inferiore a quella di ieri la minima di 2 gradi il sole sorge alle 7 e 31 e tramonterà alle 17 e 07 ci ho detto passiamo passiamo alla lettura dei giornali aprendo il resto del carlino questa mattina e vediamo subito l'intera pagina dedicata al carnevale di fano il carnevale sta riempiendo gli alberghi il presidente cecchini dice piovono le prenotazioni e piovono ovviamente all'ultimo minuto perché la gente prima di venire a fano ed immergersi in questa eccezionale kermesse perché il carnevale di fano non è un carnevale da guardare ma è un carnevale da vivere un carnevale in cui anche il pubblico si sente protagonista e questo è ovviamente e grazie al getto che movimenta un po' tutta la manifestazione dicevo che il carnevale ha anche degli effetti oltre agli effetti spettacolari ha anche degli effetti economici perché attirando tanta gente fa lavorare ristoranti bar e anche gli alberghi anche gli alberghi dunque da oggi un conto alla rovescia per il momento clou del carnevale il presidente della cooperativa dice in molti arrivano dal sud soprattutto la prima sfilata di carri allegorici attira i privati poi nella seconda e nella terza ci saranno anche le agenzie di viaggio che movimentano i loro gruppi dunque un corso mascherato che inizierà alle 15 di domani lungo viale Gramsci e intanto al mattino si svolgerà il carnevale dei bambini noi siamo pronti con 15 hotel ha detto il presidente Cecchini sono aperti l'hotel Angela, il Borivage, il Cristallo, il Corallo, l'Elisabeth II, il Deville, l'Augustus, il Siri, il Metauro il Castello di Montegiove, Villa Rinalducci e poi alla Lanterna di Metauriglia per quanto riguarda la periferia Borgognina di Lucrezia, Flaminio e Metauro di Calcinelli i nostri uffici informazioni ha detto Cecchini mi confermano che per questo primo corso mascherato la gran parte delle prenotazioni vengono da private cioè la gente, le famiglie con i bambini che partecipano a questa manifestazione attirati anche dall'unica prerogativa che è storica per il carnevale di Fano quella del getto il getto verranno riversati 80 quintali per ogni sfilata di dolciumi sulla folla e quindi lo spettacolo ovviamente non è solo da vedere ma come dice un detto famoso è anche da gustare sold out, getto, tribune e palchi di seconda e terza sfilata le collaborazioni con le strutture ricettive e i commercianti stanno dando i loro frutti ebbene dati confortanti anche per questa prima sfilata che di solito è quella che fatica un pochino di più così a attirare la gente ma poi il carnevale è di per sé un grande attrattore quindi via via che ci si inoltra nel periodo clui quello canonico proprio del carnevale la gente viene a masse e allora passiamo alle altre notizie ieri l'ASET ha evidenziato i dati dei controlli effettuati con i suoi ispettori soprattutto per quanto riguarda la vigilanza delle isole ecologiche isole ecologiche che spesso vengono bistrattate ci sono rifiuti che invece di essere immessi nei cassonetti vengono buttati per terra c'è scarsa pulizia c'è anche un non corretto non corretto posizionamento dei rifiuti nei cassonetti in cui dovrebbero essere messi perché si buttano magari la plastica in quello della carta oppure il vetro si butta per terra si rompe, si scheggia insomma ci sono comportamenti che non vanno ebbene le multe però non sono mancate resta alto il numero delle segnalazioni inviate ai vigili grazie appunto alla videosorviglianza e ci sono anche delle telecamere mobili che vengono spostate a seconda delle necessità da isola ecologica a isola ecologica per individuare i cosiddetti furbetti gli ispettori ambientali di ASET hanno totalizzato ben 1600 controlli in più in un anno quello del 2023 rispetto al 2022 intensificando anche il controllo della corretta raccolta delle deiazioni dei cani che dovrebbero essere appunto fatte dai proprietari che dovrebbero essere sempre muniti di sacchettino per raccogliere insomma la cacca dei cani diciamo come la sta per il compostaggio domestico ci sono state meno verifiche ma più sanzioni in più sono stati eseguiti 7.642 controlli dagli ispettori ambientali nel 2023 un dato che dimostra la grande attenzione della società dei servizi verso i territori e sono stati controlli che non sono stati eseguiti soltanto a Fano ma anche a Fossombrone Colli al Metauro Pergola e San Costanzo dove appunto l'ASE gestisce la raccolta dei rifiuti e qua vediamo una bella fotografia peccato che non è completa quella dell'arco d'Augusto dipinto di rosa perché dipinto di rosa appena l'amministrazione comunale con la prospettiva del Carnevale che poi è anche un grande veicolo di informazioni ha voluto così evidenziare che mancano 100 giorni alla tappa del Giro d'Italia che si svolgerà a Fano 100 giorni al Giro d'Italia e l'arco d'Augusto diventa rosa ma questa non è solo una prerogativa di Fano perché poi ha anche altri 100 monumenti in tutta Italia dove si ferma o dove passa il Giro d'Italia ci sono questi monumenti colorati l'amministrazione dice una grande opportunità per la nostra città perché poi sarà un grande evento promozionale in quanto le tappe del Giro d'Italia vengono trasmesse un po' in tutto il mondo e poi a fondo pagina si parla dell'Accademia Orafa questa ricostituita istituzione che si aggancia alla tradizione Orafa dell'Istituto Apolloni l'Istituto d'Arte che un tempo era famoso per gli Orafi infatti ci sono Orafi molto noti che si sono fatti onore a livello nazionale e a livello anche internazionale Accademia Orafa fa lavoro per organizzare il secondo anno di corsi estivi il direttore Carlo Bruscia dice stiamo lavorando per cercare di creare una scuola del gioiello d'artista in campo ci sono docenti qualificati ed è forse anche un'occasione diretta per trovare una occupazione per tanti giovani e mettere a frutto le loro doti artistiche e passiamo alla cronaca la cronaca oggi ci propone il processo a due episodi due episodi di scippo doppio scippo in centro alla sbarra tra i giovanissimi allora il primo è accaduto il 21 novembre del 2022 e sono stati implicati i tre giovanissimi ventenni stata di ventenni obiettivo una badante ucraina di 65 anni che a piedi tenendo per mano la sua bicicletta aveva la borsa nel cestino della bicicletta era appena uscita dalla posta ebbene uno gli si è avvicinato ha preso la borsa dal cestino e dentro c'erano oltre 1000 euro 1180 euro che aveva appena ritirato alla posta un malvivente Pasquale T al tempo 19enne ma già noto alla giustizia si è messo davanti bloccandole il passo per fortuna è stato poi rintracciato subito dopo quasi dalla dalla polizia insieme ai suoi complici l'altro è Sebastiano G di 27 anni originario del Cagliese ora domiciliato in una comunità di recupero di Brescia non hanno fatto però molta strada sono stati infatti rintracciati in fretta dalle forze dell'ordine e sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare e quindi sono andati a processo l'altro l'altro scippo è avvenuto il 23 luglio dell'anno scorso del 2023 un diciottenne di origine albanese Matteo C ha avvicinato un pensionato di 78 anni in pieno centro storico un giorno e gli ha strappato la collana la catenina che aveva al collo 26 grammi e lunga 60 centimetri una catenina d'oro ma anche in questo caso il malvivente non ha fatto molta strada perché sentendosi in seguito ha gettato via la collana e ha cercato di dileguarsi il pensionato così ha potuto recuperare il maltolto e intanto le forze dell'ordine sono riusciti a identificare il ladro e lo hanno arrestato il giovane ha messo tutto ed è stato scarcerato dovrà risarcire il pensionato con 500 euro per il danno e la paura che ha provocato e intanto ha patteggiato due anni e due mesi di reclusione ed altre 800 euro di multa insomma gli è andata piuttosto male e vediamo ancora le notizie che ci vengono dall'entroterra in modo particolare dalla Val Cesano a San Lorenzo in campo si premia un uomo che ha dedicato la sua vita alla proloco si tratta di Bonafede si tratta di Bonafede classe 1940 di San Lorenzo in campo da dieci lustri consecutivi fa parte del direttivo dell'associazione di promozione turistica e pensate che un lustro sono cinque anni quindi non è poco tempo e l'amore per il suo paese l'ha portato a impegnarsi giorno dopo giorno per organizzare tantissime iniziative e di queste persone a queste persone bisogna fare veramente un monumento perché si dedicano soprattutto agli altri sono veramente benemerite vediamo anche un'altra persona che è da valorizzare si tratta di Don Ambrosini nuovo rettore a San Giuseppe di Spicello nella cerimonia il Vescovo Andreozzi gli ha consegnato il decreto di nomina e qui vediamo il sacerdote che si appresta a questo nuovo compito a Urbino a Urbino finalmente nulla osta perché la si consideri de facto il capoluogo con Urbino capoluogo i servizi sono al sicuri non è soltanto una forma di vanto questo per la città ducale ma è una decisione che implica degli effetti concreti quindi rimane il tribunale rimane la provincia rimane la prefettura tutto quanto come se fosse veramente in una provincia come Pesaro insomma ci sono delle delegazioni che vengono decentrate e quindi sarà un punto di riferimento sicuro per tutto l'entroterra con Urbino capoluogo i servizi dunque rimangono e sono al sicuro e c'è anche la soddisfazione di Giorgio Londei è stata una mia battaglia ha ricordato l'ex parlamentare il Partito Democratico anche noi siamo contenti insomma anche l'opposizione è contenta per questa decisione e già vediamo come Urbino intanto si valorizza dal punto di vista sanitario spesi un milione e settecento mila euro in tecnologie per la salute di tutti questi soldi sono stati impiegati per adottare l'ospedale di una nuova attrezzatura per mammografie e biopsie oltre all'impegno della regione c'è stata anche una raccolta di fondi tra i cittadini per centomila euro quindi una nuovissima attrezzatura di diagnostica che potrà così aiutare i medici a sconfiggere tante tante malattie questo per quanto riguarda l'entroterra ora diamo un'occhiata anche all'apertura della pagina di Pesalo dedicata alla discarica di riceci e a uno sfogo del presidente della provincia Giuseppe Paolini Giambio Paolini insomma su questa discarica credo che ne abbia veramente troppe fin troppe perché è stato accusato lui dice ovviamente ingiustamente discarica di riceci la verità di Paolini sono venuti da me per dirmi di stare zitto e sui nomi il presidente della provincia ne ricorda bene uno ed è un sindaco dell'entroterra di cui appunto in questa intervista fa il nome il servizio di Roberto Damiani pone delle domande piuttosto interessanti al presidente della provincia e lui risponde senza peli nella lingua senza alcuna preclusione sincero di getto come di solito è Paolini vediamo ora le altre notizie parliamo anche alla lontana di quello che sta accadendo in Medio Oriente dobbiamo considerare che oggi è anche il giorno della memoria questo giorno dell'olocausto che si mischia un po' a quello che sta accadendo in Palestina un biscottino un biscottino può anche fare qualcosa per la pace pensate riconciliare tre religioni grazie ai frutti del mamul è un dolcetto è un dolcetto ripieno di datteri pistacchi o noci che viene gustato tanto dai musulmani quanto dai cristiani e tanto dagli ebrei sono dei dolcetti che gli arabi mangiano alla sera durante il Ramadan i cristiani lo preparano in occasione della Pasqua e gli ebrei lo preparano per il tubi shvat quindi è una cosa che accomuna tutti un dolce che si sente in bocca e che dovrebbe fare sorgere dei sentimenti di pace perché poi accomuna è la stessa sensazione che provano i cristiani i musulmani gli ebrei per dire siamo tutti nella stessa barca e smettiamola di combatterci a vicenda è un bel sogno che però al momento non si avvera vediamo anche questa notizia di cronaca l'ite tra vicini prende mazza da baseball e colpisce una donna una 45enne cubana molto molto vivace residente a Montecchio accusava una famiglia di tirare sassi alla sua macchina ha ferito alla costola alla sua dirimpetaia insomma veramente un episodio piuttosto vivace vediamo anche il corriere adriatico che apre con il resoconto di Aset sui controlli che vengono fatti sulle isole ecologiche ma anche sui proprietari dei cani si sono veramente muniti di tutte le attrezzature per non sporcare l'ambiente il giro di vite di Aset più di 1600 verifiche più dell'anno precedente un terzo diventano sanzioni e molti sono state le multe che sono state applicate che cosa accade in politica e beh in politica ognuno rimane per conto suo e quindi non accade in sostanza niente anzi accade il non accordo e quindi le cose rimangono come stanno progressisti e centrosinistra rimangono divisi non c'è accordo non c'è accordo sulle primarie non c'è accordo sul programma non c'è accordo al momento non c'è nemmeno un candidato sindaco da parte dei progressisti e quindi qui abbiamo l'immagine di Andrea Serafini che è il coordinatore del Movimento 5 Stelle che afferma e convalida che non c'è un accordo l'area progressista si incammina verso una terza via politica a Fano quindi da una parte abbiamo il centrodestra da una parte abbiamo il centrosinistra e dall'altra la terza via è quella dei progressisti che avranno un programma loro un candidato sindaco a loro e parteciperanno così alle prossime elezioni amministrative e beh di questa divisione ovviamente gongola il centrodestra perché non si vede un centrosinistra unito ma poi vedremo che cosa accadrà eventualmente nel ballottaggio aiuti per affitti e bollette ok al 75% delle domande e ieri vediamo qui tre amministratori il sindaco Massimo Seri l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti e l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini che hanno presentato il provvedimento dell'amministrazione comunale che assicura dei sostegni a quelle famiglie che non riescono a pagare l'affitto che hanno fatica a pagare l'affitto e anche le bollette dell'acqua che cosa è accaduto nel frattempo mentre nel 2022 il comune di Fano si è distinto per aver messo parte del suo bilancio a sostegno anche degli aiuti che sono giunti dallo Stato e dalla regione Marche quest'anno questi aiuti istituzionali sono venuti a mancare e l'amministrazione comunale si è trovata da sola a dare gli aiuti a queste famiglie che insomma sono indigenti e quindi ha aumentato un po' il prelevamento dal suo bilancio oltre 75% delle domande sono state soddisfatte niente fondi statali il comune ci mette 200.000 euro di risorse proprie e quindi anche coloro che hanno problemi per pagare l'affitto non resteranno senza aiuto potranno beneficiare di una tantum di 400 euro mentre per le bollette dell'acqua si aggiungono altre 100 euro e chi invece ha la propria casa in proprietà oppure è ospite di parenti e quindi non ha bisogno di contributi per l'affitto potrà disporre di 200 euro per le bollette dell'acqua questo è quanto hanno illustrato spiegato ieri gli amministratori e poi vediamo anche che per l'ambito numero 6 e l'ambito sociale numero 6 è stato raggiunto un accordo con i sindacati per il contratto degli educatori a buon fine la trattativa con i sindacati il ruolo centrale dei professionisti passiamo passiamo al Val Metauro in quella strada vinge l'anarchia sul rettilineo come in una pista ebbene si tratta della viabilità di via degli schiavoni una viabilità critica difficile soprattutto per quanto riguarda i residenti che ora viene posta alla ribalta da fratelli d'Italia la quale poco tempo fa aveva fatto la stessa cosa per via Dante Alighieri problemi che ancora sono rimasti irrisolti e i residenti via degli schiavoni evidenziano quali sono le problematiche le difficoltà di questa strada una strada di Sassonia che d'estate poi viene fatta oggetto di intenso grafico intenso traffico e anche di comportamenti non in sintonia né con l'educazione né con le norme che sono vigenti e poi questo invece è un altro articolo che può capitare a chiunque un articolo che riguarda un problema che può capitare a chiunque investe un cinghiale che si rialza e fugge via però procura danni alla carrozzeria della propria auto è accaduto a Piancerreto di Fossombroni lungo la Flaminia che costeggia le pendici del bosco demaniale delle Cesane in piena notte un uomo alla guida stava passeggiando stava camminando sì stava insomma transitando sulla strada quando questa sagoma scura gli si è parata d'innanzi per fortuna lui non è morto invece è caduto di peggio ad un daino che sempre sulla stessa zona l'altro giorno è deceduto per l'impatto ricevuto con un auto è morto sul colpo quindi bisogna stare fare molta molta attenzione Santa Vittoria Santa Vittoria è una chiesa che risale al 1500 è stata edificata da Guidobaldo Duca di Urbino in occasione della vittoria di Lepanto sui turchi ottomani ebbene è un edificio che si sta degradando però è un edificio storico e bisognerebbe fare di tutto per salvarlo ecco perché abbiamo il critico d'arte Paolinelli che lancia un appello perché tutto questo venga salvato e non venga disperso vediamo anche la pagina di Senigallia Lucio e Licia legati fino all'ultimo giorno gemelli muoiono lo stesso giorno avevano 86 anni stroncati da un malore a poche ore di distanza l'uno dall'altro la loro storia ha commosso la vallata e vediamo qui le fotografie di questi due personaggi Lucio e Licia Bucci morti nello stesso giorno a 86 anni e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7 per iniziare insieme una nuova settimana grazie per l'ascolto buon carnevale a risentirci